Federico il suo secondo lavoro lo svolgeva di nascosto, ambulante di giorno, eroe solitario contro la camorra di notte, eroe di quelli che prima di lottare coi camorristi ha dovuto battersi contro l'omertà, contro la paura di chi vessato dai signori del racket ha sempre preferito piegarsi piuttosto che alzare la testa. Rieccolo l'eroe per troppo tempo dimenticato, rieccolo rievocato, raccontato e riecco rispolverato e non sarà mai abbastanza il suo sacrificio ripercorso nelle pagine dell'ultimo volume a firma di Paolo Vigiano a testa alta perché Federico del Prete la sua non l'ha mai abbassata. Federico del Prete era una persona qualunque, era un uomo semplice, aveva la quinta elementare forse qualche anno della scuola media, tuttavia lui ha fatto delle cose straordinarie, ha preso in carico i problemi dei suoi colleghi, dei lavoratori ambulanti come lui e li ha portati fino ai massimi livelli. Ha rappresentato un esempio particolare per la nostra regione, è un uomo, io dico è, il mio libro è un libro scritto al presente perché le battaglie che Federico del Prete ha fatto si stanno ancora compiendo. Ricordare dei simboli come stato del Prete, sindacalista autonomo, degli ambulanti che ha lottato con caparbietà, con decisione, con orgoglio, una battaglia durissima contro la Camorra, lo ha fatto senza fare mai un passo indietro e questi sono degli esempi straordinari che rimangono per noi, sono una memoria, un obbligo per guardare al futuro e fare meglio. Casal di Principe, 18 febbraio 2002, vigilia del processo a un vigile urbano accusato grazie al contributo del sindacato di Federico del Prete di raccogliere le tangenti agli ambulanti per conto del clan La Torre. In due entrano in un locale con pochi espartani arredi, c'è solo Federico, per lui non c'è scampo e dire che per un po' c'è chi, giornalisti compresi, ha pensato a un regolamento di conti tra camorristi. Qui stiamo parlando di una vittima particolare, una vittima che è morta perché ha cercato di fare il proprio dovere e ha cercato di fare il proprio dovere da un pulpito un po' particolare, lui non era un uomo delle forze dell'ordine, non era un magistrato, lui era un sindacalista di paese che però aveva capito che il sindacalista non poteva occuparsi solo di tutelare i diritti economici nei propri iscritti, si doveva occupare anche di questi altri aspetti, cioè di come i diritti dei lavoratori vengono distrutti dalla camorra e dalle mafie. Questa giornata è gioia perché dopo 11 anni si parla ancora di Federico del Prete ed era quello che io desideravo affinché tutti quanti sapessero che Federico del Prete vive arde nel cuore della gente onesta di Napoli e di tutta la campagna.